come impostare dei livelli di parzializzazione automatici. Per impostare dei livelli, quindi come una sottospecie di take profit che però anziché chiudere l'operazione di parzializza l'operazione, dobbiamo andare sopra l'operazione in corso aperta, sullo scudo e dentro lo scudo avremo il take profit avanzato. In questo caso cosa vuol dire? Che noi potremo impostare un numero di pips dove quando il prezzo raggiungerà questo numero di pips in profitto mi verrà parzializzata parte dell'operazione. Quindi facendo un esempio, se io come primo take profit di questa operazione da 0,20 vado a impostare per esempio 6 pips, metto 6 pips e metto una quantità di 0,05 vuol dire che quando arriverà il prezzo a 6 pips di guadagno mi chiuderà uno 0,05 di 0,20. Quindi in questo caso se faccio applica, ecco che vedremo il nostro livello di advanced take profit, quindi un take profit avanzato che quando arriverà qui mi chiuderà 0,05 lotti di 0,20 appunto aperti. E posso impostarne di più fino a 4, quindi se io poi per esempio vado a impostare un take profit di 12 pips, vado a chiudere un altro 0,05. Qui appunto quando il prezzo arriverà qui al mio secondo take profit avanzato si chiuderà un altro 0,05 di 0,15 perché qua si sarà già chiuso uno 0,05 rimarrà uno 0,15. Quando arriverà qui il prezzo mi rimarrà uno 0,10 aperto. In questo caso ho già un take profit impostato che qui da qualche parte c'era, eccolo qui, lo tiro un po' qui su. Quindi se abbiamo un take profit impostato lo 0,10 che avanza si chiuderà poi con il take profit che abbiamo impostato. Se invece vogliamo impostare un altro livello che chiuda lo 0,10 che è rimasto possiamo anche farlo sempre dallo scudo. Quindi andando sullo scudo o dall'operazione sul grafico o qui sotto dalla vista trading, se vado a impostare un ulteriore livello per esempio di 30 pips, io voglio chiudere qua l'ultima parte dell'operazione che rimane appunto 0,10 e qui sotto vediamo appunto quantità rimanente 0. Ciò vuol dire che quando incontrerà questo terzo livello di advanced take profit mi chiuderà l'intera rimanenza di lotti, quindi lo 0,10 che rimarrà. Se faccio applica appunto eccolo qui, si applicherà il nostro terzo livello e di conseguenza potremo anche rimuovere il take profit perché l'intero lottaggio verrà già chiuso da questi livelli. Grazie 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 Grazie